Per sottoporsi la prestazione sanitaria ha dovuto attendere un anno e sette mesi, ma quando si è recata in ospedale ha fatto la mara scoperta. L'esame, quel giorno, era stato sospeso e lei è andata su tutte le furie. Dove aver protestato con i personali sanitari, si è recata nella vicina sedere tribunale per i diritti del malato, dove ha presentato un esposto preciso e dettagliato. Protagonista della vicenda è una donna di Sulmona che al TDM ha chiesto di andare fino in fondo, di intercedere presso i reparti ospedalieri a fine di ottenere quanto dovuto. Il calvario della signora fa il paio con il disagio che vivono la maggior parte degli utenti che continuano a scontrarsi con liste di attesa troppo lunghe, nonostante gli ultimi interventi posti in essere dalla regione e dalla ASL. Nel caso specifico la donna, di professione impiegata, avea prenotato al CUP di Sulmona un ecocolordoppler in data 5 aprile 2018. L'esame è stato fissato velo scorso 6 novembre, un anno e sette mesi dopo, ma non è finita qui. Il giorno precedente, l'impiegata, per assicurarsi che poteva accedere alle cure richieste, aveva telefonato al CUP chiedendo contezza dell'erogazione di quella prestazione sanitaria. Arriva quindi la data indicata sul foglio di prenotazione e la donna si reca in ospedale, scoprendo che l'esame è stato sospeso proprio quel giorno. Una coincidenza che ha scatenato le polemiche della malcapitata che, tra le altre cose, si era presa anche un giorno di permesso dal lavoro. Al telefono, il coordinatore del Tribunale per i diritti del malato, Katia Puglielli. Nonostante il recente intervento di Regione Abruzzo per cercare di risolvere il problema delle liste d'attesa, per quanto concerne il nosocomio sul Monese ci sono ancora delle grandi criticità per la prenotazione di visite e di esami ed in particolar modo proprio per la prenotazione dell'ecocolordoppler. Abbiamo ripetuto più volte come i tempi di attesa sono molto lunghi, a volte sfiorano anche due anni. In alcuni casi gli utenti non hanno addirittura neanche potuto prenotare questo esame. In più ad aggravare questo problema la strumentazione è anche obsoleta. È quello che è successo recentemente ad una signora che dopo un anno e sette mesi di prenotazione è andata finalmente a fare l'esame e purtroppo diciamo l'esame era sospeso per un problema legato alla strumentazione. Quindi cerchiamo di risolvere questi questi problemi, invitiamo appunto la Direzione Generale dell'ASL a farsi carico di un problema importante e cerchiamo appunto di puntare quantomeno sulla qualità del servizio.